E allora Giovanni, nuova stella miscelana in Sicilia con San Giorgio a Taormina che è dal lustro la cittadina famosa in tutto il mondo e come ci si sente ora? Felicissimi, felicissimi, onorati di questa grande festa per partecipare a questa grande festa e con già la voglia di ripartire subito e fare cose ancora più belle Racconta un po' la tua cucina La nostra cucina è una cucina mediterranea, è creativa ma soprattutto salutare Il focus che attenzioniamo da anni è veramente sulla salute del nostro cliente che è il nostro culto, il nostro punto di vista sul mondo è una cucina anche divertente perché la facciamo con passione, con amore, dedizione è come se non lavorassimo mai C'è questo sodalizio con Heinz che va da 12 anni Esatto, e credo che comunque insomma alla fine c'è una sua partecipazione però naturalmente la parte operativa e esecutiva è tua e quindi naturalmente insomma ci metti molto del tuo La Sicilia ti ispira in che cosa? Sicilia è un posto dove non sono nato ma dove voglio vivere è una terra fantastica, siamo stimolati costantemente da una terra prima unica da una biodiversità unica sull'isola e siamo benissimo, è veramente un posto meraviglioso siamo veramente molto più semplici nel nostro lavoro perché è una terra fantastica e ci stimola da sola E dalla Campania, tu sei campano, cosa porti con te? Tantissimo, già ero mediterraneo prima, in Sicilia ancora di più Cosa cambia adesso con questa stella per te, per il tuo ristorante, per il tuo staff? Per noi ci ha messo ancora più voglia di fare bene, di guardare avanti ma non sposta il nostro obiettivo, cioè far star bene i nostri clienti quindi dare la possibilità a chi è in Sicilia e viene a visitarci a Tormina di andare via con un bellissimo ricordo